Mamma, 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 mamma Che è successo? Mi fa male la spalla quando faccio così, eh? Scusa, perché devi fare così, devi volare? Eeeh... Oh, mamma, mamma... Vabbè, comunque andiamo da quello là che... mo internet è pieno, come si chiama? Quello che fai massaggi alle ossa? Come massaggi alle ossa? Sini, quello là, come si chiama? Lo... lo... lo stipetto, lo ostia il papa, come si chiama? L'osteopata Ecco, bravo, la tua madre Pari, è sicuro che mi fa bene, no? Una volta nella vita, fidati di... Me! E io mi fido pure, maledetto quel giorno che mi sono fidato... Mi fanno lavorare il dottore, che bravo Allora, stai fermo, stai fermo, stai fermo, che ogni tanto mi riesce Ma dove mi tanto ti riesce? Oh, mamma, mamma, mamma Forza, forza, si toglie le scarpe Perché mi devo togliere le scarpe, dottore, se mi fa male la spalla? Fai male, dottore, scusa, ma tu sei lavorato in... Osteria, ocomicideria, ospeptorlaco... Come si chiama? L'osteopatia Ecco, bravo Ma come cazzo fanno a sapere tutte queste cose? Chiara, dottore, eh? Mamma, dottore, che bella soddisfazione Mi raccomando, non si muove, che l'ultimo per poco non ci lascia male Guarda me, a San Cosimo e Damiano, datemi una mano Mamma, 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 mamma Mamma, dottore, posso un pugno io, per favore? Come il pugno lo canna anche le muovere? Però è così da bene Mamma, mamma Giuseppe, dare un calcio a comando No, no, grazie Piano, 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 mamma Ma che cazzo c'entra in una sola spalla? Premo così, fermo così Abbiamo messo Damiano, abbiamo finito, abbiamo finito, stai fermo E manca Ultima seduta E che cos'è quella cosa, dottore? Ultima seduta Nooo Ehi, è pronto ti ho detto, vieni E come vuoi che vengo, ballando o saltellando tipo acropata? Vaffanculo a te l'ustiopata Allora 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 Allora